musica due gemellini bellissimi guardate che meraviglia sembrano bellissimi un rumore giusto ragazzi mamma 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 qui tocca ragazzi aggettivo libero ancora aggettivo libero per questa meraviglia che emozione che emozione ragazzi ragazzi che bel momento ancora il bosco delle fate guardiamo un po' allora questo ragazzi mi sembra di tornare bambino guarda che meraviglia guarda che meraviglia ci sta ragazzi ci vuoi tutto qua eh un nennino guarda che meraviglia mamma mia oh mamma mia ragazzi direi se ci sta e lo devo dire aggettivo libero questo è un aggettivo libero poi qua c'è qualcos'altro c'è qualcos'altro qua c'è qualcos'altro questo è pulito questo è giallo beh poi non è finita facciamo qua andiamo qua guardate avete visto mamma mia anche qua ragazze che gambo questo assolutamente è pulito mamma mia c'è anche il fratellino anche lì prendiamo tutti i due vediamo questo com'è ma come sei ciccione ma come sei ciccione ma come sei ciccione oh ragazzi questo è bellissimo mamma mia poi c'è un piccolino andiamo a vedere questo raccogliamo anche questo ma è questo mangiato guarda che batufogli madonna ragazzi che bei momenti che fortuna ragazzi siamo nel bosco delle fate guarda che meraviglia bellissima anche qua c'è un piccolo gioiello guardate mamma mia guarda che meraviglia guarda che meraviglia guarda che meraviglia ma come sei bello ciccio cicciolino guarda che meraviglia è finito il temporale quindi sono anche lavati guardate che belli piccolini vediamo un po' ma come siete belli come siete belli poi andiamo facciamo un altro qua un altro qua andiamo sì 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 andiamo poi c'è un altro appena più avanti vediamo anche questo è pulito poi c'è una cosa grande grande andiamo andiamo a vedere quanto questo mettiamo qua guardate vedete è enorme ragazzi guarda che meraviglia guarda il gambo urca la miseria mamma mia che gambetto pulito bene questo guarda qui sotto sotto bene mamma mia andrebbe asciugato questo mamma mia ragazzo mio ma come sei bello ma come sei bello mamma mia andiamo andiamo ora per la foto finale andiamo andiamo pure queste nuove ragazzi un ciccione andiamo 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 vediamo 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 il colorino meraviglioso questo che bello che emozioni che emozione che belle emozioni vediamo 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 come questo patatino poi c'è il culo grosso mamma mia ragazza ma come sei il ciccione ma che ciccione che sei, ma sei un ciccione cosa dire eh? la figa è questa meraviglia vediamo un po' come mamma mia ma come sei bello bello allora vediamo qua cosa c'è è bello bello questo ragazzotto vediamo un po' vediamo un po' poi c'è un altro andiamo a vedere vediamo un po' anche questo ragazzo mio ma sei bello ma come siete belli 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 ma che bello questo vediamo un po' il caldo è bello bello mamma mia! oh cementato! cemento! cemento! c'è un patato benissimo! ma che c'iccione che c'iccione che c'è? ma che c'iccione?